Lei è un'imprenditrice vittima di difficoltà economiche, lui uno strozzino senza scrupoli che prestava soldi con un tasso di interessi del 20% e poi minacciava i propri clienti. Hanno messo fine a un giro di estorsione e di usura i militari dell'arma di carabinieri di Cesenatico, che dopo una serie di controlli sono giunti all'arresto di un 33enne moldavo residente a Rimini. Ulteriori indagini hanno permesso di accertare come l'uomo avesse messo in piedi un'ampia rete di prestiti, che contava almeno sette vittime per un giro di denaro del valore di diverse decine di migliaia di euro. Tutto svanito in un attimo per merito della denuncia della donna. È stato grazie al coraggio di un'imprenditrice di San Mauro Pascoli, la quale si è trovata a dover richiedere un prestito iniziale di 15.000 euro all'uomo, la stessa poi si è trovata in notevole difficoltà proprio a fronte delle continue richieste da parte dello stesso, il quale nel richiedere la restituzione della somma prestata aggiungeva di mese in mese una percentuale del 20% come tasso usuraio. Oltre all'arresto, i militari dell'arma hanno sequestrato la somma in contanti di circa 40.000 euro, ritenuti proventi dell'attività criminale dell'uomo. Una piaga, quella dell'usura, dalla quale Chini è vittima pensa di non poter più fuggire, mentre a volte basta rivolgersi alle persone giuste per trovare una soluzione ai propri problemi. Invitiamo tutti gli esercenti e imprenditori che dovessero trovarsi in queste condizioni a denunciare sempre quanto subito.